È una ragazza di 12 anni. Che ha arrestato un ladro che è entrato in casa dove vive con i suoi genitori e nonni. Dopo aver salvato quest'ultimo. Il, un 50enne che vive non lontano. Ha rotto un porta del pin di porta e intrufolarsi fino al piano terra della casa. I due anziani non si accorgevano nulla. La nipote, che era all'ultimo piano, vide il ladro e si comportava coraggiosamente. Il primo istinto della ragazza finì in bagno. Che era all'ultimo piano. Era quello di chiudersi in bagno. Una volta lì, tuttavia, temeva per il destino dei nonni. Pensava che il ladro potesse ferirli. Soprattutto da allora. Chiusa in quella parte della casa. Non aveva accesso a un telefono per lanciare l'allarme. Det. Il 12 anni ha preso coraggio. Aprì la porta. Scendeva in basso. Facendo attenzione a non fare rumore e raggiunse il rumore i suoi nonni. Dopo aver accertato che entrambi stavano bene. Prese il telefono cellulare e chiamò i suoi genitori. Mamma. C'è un ladro a casa. Sussurrò. La madre e il padre della ragazza si avvicinarono immediatamente a 112 e si precipitarono a casa. I carabinieri erano già sul posto il ladro è stato arrestato.